Aggiungi un altro account, mi sembra, no. Ok, cliccate sulla foto, il problema è che sto fotturissimo sole, informazioni personali, no, ho venuto a prova. Vabbè, non mi ricordo, ci vediamo. Ok. Ci vediamo appena me l'ho fatto. Me lo stavo facendo? Ok, imposto la foto. Potete essere scatta foto oppure fiegi. Io la scatto. Ma le armi sono? Ma abbiamo armi? Sono finte, ma... Peccato. Cazzo, le volevo bere. Questa qua si fuma l'altro. Voglio avere delle armi vere, belli. Ci spetta un cassura a Fleres, comune amicata. Io ti cinta di sole, e ce la sento. Io ti non fanno il gioco. Che goduria. Ok, scelgo. Allora, Conte, se lo potete mettere in putere il muore, sta imputendo. Timore, spavento, scoraggiamento. Paura, la paura, la paura, sta imputando adesso. Ok, ragazzi, siamo su AvonGaz. Emergenza. Io ho visto che quello che verde scappava e blu è andato. Io vorrei dire black. Vediamo black. Vediamo black. Io vado, io ancora ci faccio. Black. Vediamo il momento di putere, votiamo black. Procane. Due su me. Io non sono l'impostore. Ora ve lo dimostro, anche se mi avete buttato fuori. Ve lo dimostro. Hai visto? Seguro, seguro la prima. Invece da chiudere uno. Se sei finito. Hai visto chi è l'impostore? Ora voglio vedere. Ci stanno rendendo la vita così impossibile. No. Questo ora mi dovrebbe vedere. Questo è un po' C'è il gosso. Vi aiuto. Gli faccio. Come si dice? Come si dice? Ora vi spiego i colori. Chie, die. Mamma. Non ce la faccio. Non sopporto. Non sopporto. No. Sto in ta sacchetta. Mai ammettere. Ci sparrastà tutti. Che lo giuro. Devo essere il più. davanti a quella scuola le quattro e mezza perché guardo nelle telecamere ora che vediamo la stavo andando in elettrica e ho visto questo del il corpo dell'impostor questo ma prima prima voglio dire almeno c'è uno dicevo non c'è con un cannudo parra uno frati parra uno no dai parra uno mociata tipo tutti piano piano non si faceva uno sentire non penso di trovare che lui era l'impostore un corpo pensano di trovare pensate voi al carburante chiudo controlli recolete l'hanno sabotato ok ok andata controlli devo andare qua devo vedere un movimento sospetto bastardi mi sospetto il black mi sospetto ci vediamo alla è quello rosa è quello rosa devo tenerlo d'occhio quello rosa devo tenerlo d'occhio no 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 non c'è andare non c'è andare no 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 non c'è andare no ti uccide ti ho ucciso ti ho ucciso ti ho ucciso ti ho ucciso lei non possiamo passare reporta qualcuno reporta intanto vi vado ad aiutare quello era il mio corpo era ci vediamo in parte e vediamo se sono io l'impastore no non sono mai sono l'impastore di vergogna a mio non so se non mi morirono però io vedo l'atteggiamento che hanno nei miei confronti essendo super veloci possono ammazzare qu'è daniela 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 cosa ma mai da ma si denta seconda ma si denta seconda ah già vero vero che c'è suo figlio vero vero ma non lo so mi pare uscire ma io non daniela veramente pare buono se non lo so ma devo non so se c'è più che a dire si riporta coglione riporta riportare non mi pare veramente dove 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 che mi aiuto dov'è 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 ma se tu non stai più con nodo ok ma se tu non stai più nodo tu a quello l'ha detto ma che dici che sta qui abbiamo appena abbiamo vinto bravi cazzo e spero che questo video vi sia piaciuto così all'apparenza questo video vi sia piaciuto lasciate un bellissimo like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e vi lascio in un nuovissimo e vi do l'appuntamento ma lei è un soli non ha lei mica di fare i magnaci non è cani scema i magnaci non è cani scema i magnaci non è cani scema ma di la pittini